S.O.S. dei sindacati per scongiurare il licenziamento dei 18 lavoratori della Blue Parking, la società che gestiva tutti i parcheggi a pagamento di Chieti, dove fino al 19 maggio la sosta sarà gratuita in attesa che subentri il nuovo gestore teatro e servizi. I sindacati Fit, Cisla, Bruzzo e Molise e Will Tux, dopo aver chiesto un incontro al prefetto, sono pronti a dare vita anche ad azioni di proteste eclatanti davanti alla prefettura e al municipio del capoluogo teatino per tutelare i lavoratori della Blue Parking che attualmente sono stati messi in ferie forzate, come ci spiega Mario Miccoli, segretario generale della Will Tux Abruzzo, il quale lancia un appello al sindaco Umberto Di Primio. La perdita occupazionale di questi lavoratori rappresenterebbe per Chieti un'ulteriore lacerazione occupazionale che non ci possiamo permettere in questo momento. Ci sono i margini affinché teat e servizi possa riassorbire 18 dipendenti della Blue Parking? Ma allora, innanzitutto la norma non impedisce che Blue Parking continui ad utilizzare questi lavoratori con forme di assunzione diverse da quelle del tempo indeterminato. È ovvio che se c'è l'interesse di tutelare la professionalità di questi lavoratori che è stata acquisita in diversi decenni di lavoro, noi siamo a disposizione per trovare le soluzioni. Non vi è un subentro in un appalto, ma vi è la risoluzione di un contratto. La risoluzione di quel contratto determina una nuova situazione negoziale che è quella che oggi il Comune ha nei confronti di teat e servizi e non più nei confronti di Blue Parking. Detto questo, è evidente che faremo di tutto perché ci sia una tensione nei confronti di chi fino ad oggi ha lavorato per il vecchio gestore dei parcheggi. Dipenderà da teat e servizi la scelta delle assunzioni e le modalità di assunzione da adottare. Bisognerebbe razionalmente sedersi a Taurino, vedere quali sono le norme applicabili e capire come si può in qualche modo dare risposta a chi ha delle aspettative legittime che sono di coloro che fino ad oggi hanno lavorato per Blue Parking e si aspettano ancora di lavorare nel sistema dei parcheggi di Chieti. Per quanto concerne la riapertura della Scala Mobile, il Sindaco Di Primio spiega che Regione Comune stanno aspettando che l'Ustif provveda ad intestare l'esercizio della Scala Mobile dal vecchio gestore a teat e servizi. Sul fronte Voragine in via Asinio Aereo, il primo cittadino annuncia che i lavori saranno ultimati, non ci saranno ulteriori disagi per automobilisti e utenti degli autobus e che il giro di taglia di ciclismo potrà passare su quella strada sulla quale ci sarà anche un asfalto altamente performante.